Ciao ragazzi, benvenuti sul mio canale! Oggi vi presenterò il chicken namban è un piatto di pollo giapponese originario della prefettura di Miyazaki Allora iniziamo! Per prima cosa, tagliamo il pollo a pezzi di media misura Mettiamo un po' di sale Anche la farina Mettiamo un uovo in una ciotola Mascoliamo bene Aggiungiamo il pollo e uniamo tutto Questi li friggiamo dopo Ora prepariamo la salsa tartara Tagliamo la cipolla a pezzi piccoli Mettiamola in acqua per eliminare il piccante Lasciamo per circa 10 minuti Dopo 10 minuti spostiamo la cipolla scolata in una ciotola Aggiungiamo tre cucchiai di maio nese Un cucchiaino di aceto di riso Un cucchiaino di salsa e soya Un cucchiaino di zucchero Mescoliamo e uniamo tutto Ecco pronta la salsa tartara Ora prepariamo l'altra salsa Mettiamo un cucchiaino di zucchero in una ciotola Un cucchiaino di aceto di riso Due cucchiaino di mirin Due cucchiaino di salsa e soya Un po' di fecola di patate Uniamo tutto Mettiamo abbastanza olio nella padella Facciamo frizzere il pollo a poco medio Aggiungiamo le uova rimaste sul pollo mentre sta coccendo Cogliamo da entrambi i lati Mettiamo un cucchiaino di ricardo Quando sarà non cotto Tuia amoro di lo con la carta d'accina Lasciaino di ricardo Un cucchiaino di ricardo Aggiungendo un cucchiaino di ricardo Aggiungiamo la salsa che abbiamo preparato prima. Inghiamo il pollo alla salsa. Aggiungiamo il pollo della salsa. Impiattiamo. Mettiamo la salsa tartara Mettiamo anche la salsa rimasta Se avete l'erba cipollina toritata mettiamola Ecco pronto Buon appetito! E' molto gustoso e buonissimo! Il pollo in agrodolce si sposa bene con la salsa tartara Questo piatto è nato a Miyazaki E' ottimo accompagnato con il riso Provate anche voi! Grazie per avermi seguita Ci vediamo nel prossimo video Ciao!